Sì, sono fatissimi. Cara! Tanto non vale. Dovevi contare fino a 150. Ma l'ho fatto. Giacomo, diglielo tu che l'ho fatto. In realtà, io ho controllato... fin circa a 70. Visto, non vale. Ma Giacomo, l'avevi promesso. Ora toccate fare la conta. Basta studiare. Che gioco vuoi fare? Pilla, non tirarmi così, fai cadere. La paura muove tutte le cose. Ora toccate. Ora toccate. Pilla. Pilla. Pilla.